Il governo, ormai ci governiamo, ci governano attraverso le emergenze e con le emergenze non c'è più democrazia, io lo conosco molto bene, è di un'arroganza illimitata, quindi io pensavo di fare una passeggia su questo tema e qui vuol dire che non capisce proprio nulla, il territorio è ancora sano, forte, ci sono elezioni regionali e dobbiamo ricattare tutti i partiti, perché quei partiti che sono per favore di questa operazione, noi non li voteremo mai, anzi di voi voteremo, perché noi faremo una campagna contro chi appoggerà questo mostro, la nostra vita è più importante che i profitti delle multinazionali, di Snam, della parte intesa, perché le verità poi vengono sempre a galla, le verità, lo capite? Le verità vengono a galla completamente.